Politiche del lavoro sempre più impegnate a garantire incentivi alle imprese, la regione Abruzzo pubblica i risultati del primo bando dedicato ai più 30. A disposizione c'erano 1.200.000 euro. Gli incentivi per chi assumeva uomini tra i 30 e i 35 anni erano di 6.000 euro, che diventavano 9.000 per le donne. Non può esserci il rilancio economico di una regione se vengono lasciate indietro le fasce più deboli. Per fasce più deboli intendiamo le donne, intendiamo i giovani in attesa di occupazione, intendiamo i padri di famiglia che sono rimasti senza lavoro. Con questi strumenti vogliamo andare incontro proprio a queste fasce per far sì che escano da un momento di difficoltà che oramai attanaglia l'intero territorio da diversi anni. Dopo gli ottimi risultati ottenuti si apre una nuova pagina, più ricca nella dotazione economica e che prevede più categorie. Donne over 30 disoccupati di lunga data e crisi aziendali. Si tratta della programmazione 2014-2020 che a breve aprirà i nuovi bandi. Stiamo progettando oltre 23 schede programmatiche che verranno approvate in giunta entro il 20 giugno. Quindi molte iniziative da giugno del 2016 a giugno del 2018 perché vogliono essere una sorta di aggiunta al masterplan per il Sud firmato con il Premier Renzi. Ma questa volta tutto è incentrato sul lavoro e sviluppo economico. Dobbiamo essere bravi a saperli spendere. Io ho già avuto modo di dire che ogni centesimo della programmazione FSE 14-20 deve generare prodotto interno lordo. Io credo che siamo sulla strada giusta, ce l'ha confermato il rapportere della Commissione europea. Andiamo avanti così e sono sicuro che nel giro di qualche anno ci saranno grandi risultati.